15 tonnellate di parmigiano proveniente da un caseificio di Bonporto di Modena per quasi 170.000 euro di ordini. È il bilancio di un'iniziativa lanciata da Gianni Mutarelli, responsabile dell'Associazione Aretina e il Velluto Rosso, su Facebook, poche ore dopo la scossa di terremoto del 20 maggio scorso, che ha provocato la caduta delle forme dagli scaffali del caseificio modenese. All'iniziativa hanno aderito migliaia di aretini, innescando una vera e propria gara di solidarietà. Al gruppo si sono iscritte circa 3.000 persone. L'ordine del parmigiano occupa 13 pagine in formato A4, commenta Gianni Mutarelli. Per gli oltre 1.000 aretini rimasti fuori provvederemo a contattare un secondo caseificio, per vedere di soddisfare le richieste, come dire un grande ponte da Arezzo verso Modena. È tutto di solidarietà.